Ciao a tutti ragazzi io sono Alex e sono tornato con questo nuovo top 5 clip of the week Siamo oggi all'episodio 25 Io vi ricordo come al solito che se la vostra clip non è presente in questa top Potrebbe essere presente nella prossima Quindi non disperatevi e se volete inviarmeli il clip dovete passare al link in descrizione Comunque ragazzi io direi di iniziare subito con la quinta clip Che c'è la porta Rampix Ed è una clip molto bella Forse un po' troppo svalutata per essere alla quinta posizione Però purtroppo era un 2v2 E secondo me le clip dopo erano migliori Soprattutto per il pubblico che segue me Comunque qua ho già preso il primo e qua turno il secondo Mi ha scritto nel titolo Questi sono i primi della ladder Quindi presumo fosse una GB e contro i primi Però non lo so Quindi anche per questo l'ho messo nella quinta posizione Comunque tanti complimenti a lui Vi ricordo che la quinta posizione non svaluta nulla Per me è una buona posizione Comunque come sono già diluncato troppo Abbiamo già visto la quarta clip Che si tratta di un trickshot di quei due su COD E qua ce la fa vedere in click Ma ovviamente non ho Non mi ricordo bene se era in Chad Forse si Non lo so Non me lo ricordo Comunque l'avrete visto sicuramente voi Quindi non è rilevante Comunque passiamo subito alla terza clip Che ce la porta Wade's Nightmare E ci porta Una quad feed Five man feed Non lo so Con un triple A1 bullet Non lo so se è five man feed Perché ci hanno split in mezzo Comunque bella clip Alla seconda posizione troviamo R-P-T-Z-Tiger E guardate la qualità Non è colpa mia ragazzi La clip secondo me è molto buona Mi dispiaceva buttarla Quindi ho fatto un'eccezione Infatti si trova su MU3 Su Lockdown se non erro E qua farà una strage assurda Una mob velocissima Con un sacco di multiple Quindi ve l'ho lasciata Però ragazzi Mi inviate clip del genere Clip addirittura peggiori Registrate col cellulare Che vi muovete E si vede lo schermo Almeno lui ha fatto la fatica Di non so Fissarlo da qualche parte Il cellulare Sempre se l'ha registrato Che con quella Ma purtroppo ragazzi La qualità è questa Io che faccio Le butto via tutte Sì Però queste qua Che sono un po' più carine Le tengo Cioè questa qua È veramente una strage Bellissima clip Peccato per la qualità Comunque passiamo subito Alla prima posizione Che Ahimè Sì È un Ace Su Lega Un Clutch 1v4 Scusatemi Col cecchino Secondo me Questa clip vale molto Però non so Per voi quanto valga Quindi io Che cosa faccio Ve lo chiedo Visto che tutte le volte Che le metto Nelle posizioni Un po' più basse Qua intanto Ne torna uno Di cecchino Per farvi capire Mi dite sempre Che secondo voi Dovrebbero stare più in alto Però Io non so Se a tutti di voi Vanno bene Questi tipi di classifica Ovviamente Se avrò clip migliori Non le metterò Per primi Gli Ace O i Clutch Quello che siano Comunque In questo caso Secondo me Era la clip migliore Che mi è arrivata Quindi l'ho messa qua Però non so Se voi l'ha pensata Allo stesso modo Quindi Fatemelo sapere Nei commenti E se mi dite Ovviamente di no Io nella prossima top La svaluterò Come ho fatto Fino adesso Comunque Qua la top è finita E vi ricordo Come al solito Che se volete inviarmi Dovete passare Link in descrizione Lasciate un bel Mi piace Nel caso Il video vi fosse piaciuto Commentate Iscrivetevi Se non siete ancora Niente ragazzi Ho finito Ciao a tutti